Ad un anno dall'uccisione di Sara Scazzi, per quel delitto ci sono due persone in carcere, la zia Cosima e la cugina Sabrina, altre 11 imputate e tre accusate di false informazioni. Lunedì 29 agosto si terrà la prima udienza preliminare, fissata con decreto d'urgenza, perché il 14 ottobre scadranno i termini per la custodia cautelare di Sabrina Misseri. La ragazza, insieme alla madre e al padre, Michele Misseri, è fra i principali imputati, ma rischiano il processo anche il fratello di Michele, Carmine Misseri, e il nipote Cosimo Cosma. Sono imputati poi per favoreggiamento tre parenti e un conoscente di Giovanni Buccolieri, il fioraio di Avetrana che due giorni dopo la scomparsa della quindicenne aveva riferito agli inquirenti di aver visto Cosima costringere Sara a salire sulla sua auto, poi ritratto tutto dichiarando che si era trattato solo di un sogno. La posizione dello stesso Giovanni Buccolieri è stata stralciata, così come quella del suo amico Michele Galasso e di un anziano di Manduri, affinito nell'elenco degli indagati per false informazioni al PM per aver negato di aver parlato al telefono con un testimone. Fra gli imputati ci sono infine quattro avvocati, Vito Russo e Gianluca Mongelli, accusati di favoreggiamento personale. Russo, che difendeva Sabrina Misseri, con la moglie Emilia Velletri, risponde anche di intralcio alla giustizia e soppressione di Attiveri. Infine, l'avvocato Francesco De Cristofaro del Foro di Roma, ex legale di fiducia di Michele Misseri, al quale la procura contesta invece il reato di infedele patrocinio. I magistrati dovranno dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni tassello dell'impianto accusatorio costruito dopo 12 mesi di indagini e colpi di scena. E cioè che la povera Sara fu uccisa in famiglia dalla cugina Sabrina, con la complicità della madre Cosima. Il movente, la folle gelosia di Sabrina per l'amico di comitiva Evano Russo, di cui era innamorata ma che sembrava attratto dalla cugina Sara.